Da questa Beirut dove espirano venti di guerra, che affronto anche con coraggio, che non è in coscienza, ma per senso di responsabilità e di riconoscenza, non mi sottraggo all'invito per la nuova edizione di Perfidia e alla prima puntata, quindi ti invio il mio video editoriale attenendomi al tema della trasmissione, Santi, Navigatori e Puttanieri. Ora, sulla santità è un fatto oltremodo oggettivo e personale, si può disquisire, un po' come quando praticamente si apostrofa qualcuno con il termine di statista, intendiamoci, essere statisti non significa ricevere un complimento, semmai identificare qualcuno con un titolo in quanto ha visione di uno Stato, poi può essere un complimento laddove chi è statista incarna una concezione positiva. Una concezione di statista positivo è infatti attribuibile a Moro piuttosto che a Craxi, a Fanfani, a Forlani, persino anche a Spadolini per certi versi. La concezione negativa invece è quella attribuibile a personaggi tipo Hitler, Mussolini, lo stesso Stalin. Era appunto una visione di Stato che poteva essere indubbiamente negativa, come la storia ci ha insegnato e ci ha dimostrato essere negativa. I navigatori? Beh, i navigatori sono quelli tipo Cristoforo Colombo o anche chi come Antonio da Piugi, da non confondersi con la locuzione nominale attribuibile ad un noto filosofo del Quattrocento, probabilmente. Mi riferisco invece più prosaicamente e modestamente all'attuale Ministro degli Esteri. Beh, sì, i navigatori ce ne sono e anche di vario genere, perché come dicevo Colombo ha scoperto l'America, seppur indotto in errore o pensando di avere scoperto le Indie e poi invece era un altro posto. Invece nel fatto cogente e al nostro tempo contemporaneo, beh, diciamo che ci troviamo più che di fronte a un Ministro degli Esteri a un turo per etero, si trova sempre nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. Per quanto riguarda i bozzanieri, beh, viene da pensare subito a San Giuliano, il quale francamente per me rappresenta una sorta di coperta di Linus. Difatti mi rassicura e spiego per quale motivo. Se penso infatti a San Giuliano come giornalista, direttore di testata, uomo politico, Ministro, persona di cultura e alla fine anche Don Berthefam, allora sì, c'è speranza veramente per tutti.